Giulia Salemi spiazza i fan, mi sento male. Ecco cosè successo Giulia Salemi è una delle influencer più amate e conosciute del nostro paese. . Attualmente è fidanzata con Francesco Monte, ex tronista di Uomini e Donne, che ha conosciuto nella casa del grande fratello Vip. In queste ore i centinaia di migliaia di fan della Bella Influencer hanno visto una stories che li ha lasciati quantomeno perplessi. Giulia Salemi, infatti, ha commentato con una frase molto particolare limmagine protagonista della storia, mi sento male. Guardando con attenzione limmagine, però, si riesce a capire quale sia lo spirito con il quale la fidanzata di Monte ha postato la foto. . Il motivo della stessa è legata ad un suo modo di dire, diventato molto famoso proprio durante la partecipazione a reality di Canale 5. . La carriera di Giulia Salemi. Giulia Salemi sin dal suo approdo sui social si è fatta conoscere ed amare, oltre che per la sua bellezza anche per la sua spontaneità. . Ha fatto tanto parlare di sé per un outfit indossato, insieme a Diana Mello, durante la mostra del cinema di Venezia, che lasciava molto poco allimmaginazione. . Di certo si è fatta conoscere dal grande pubblico per la partecipazione allultima edizione del grande fratello Vip. . Proprio dentro la casa più spiata dItalia ha conosciuto Francesco Monte. È stato un amore lento, vissuto prendendosi i dovuti tempi e senza forzare su alcun aspetto. . In particolare l'ex tronista, ancora scottato per quanto accaduto l'anno precedente con la sua ex Cecilia Rodriguez, ha dichiarato più volte di non volersi impegnare e di voler vivere con calma e senza pressioni ciò che stava nascendo con la bella Giulia. . . L'influencer, che si è lanciata a capofitto nella storia, è riuscita ad avere la pazienza di aspettare i tempi del bel pugliese. . Questo suo comportamento le ha fatto subire moltissime critiche dall'interno e dall'esterno della casa, lontano dai riflettori, però, i due si sono conosciuti e per quel che si intravede sui social, si sono anche innamorati. . Il post che spiazza i fan. . Giulia Salemi è come sempre seguitissima sui social ed è comprensibilmente molto attiva. . . In una sua storia s'ha voluto condividere con i suoi follower un'immagine che l'ha molto divertita, quella di un'insegna con scritto Power. . E' stata questa la parola che l'ha contraddistinta durante il percorso all'interno della casa, diventando praticamente un tormentone. . Ad accompagnare l'immagine un'affermazione che fa comprendere chiaramente il divertimento della stessa Salemi nel condividere in una stories questo scatto, mi sento male. . . Nulla di preoccupante, quindi, i suoi fan possono stare tranquilli, si tratta solo di un momento di sano e puro divertimento. .